Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 un chilometro di coda per il ripristino di un incidente tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico in direzione Roma. In FIPILI invece si è verificato un incidente in entrata ad Empoli in direzione di Livorno. Guidare con prudenza per la neve in A1 tra il bivio con la variante di Valico e Aglio sulla statale 12 della Betone e del Brennero tra Modena e il Valico della Betone e sulla statale 63 del Valico del Cerreto tra Fivizzano e Vezzano sul Crostolo. Nevischio in A1 tra Parma e il bivio con la variante di Valico e tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello ed in A15 tra Parma Ovest e Pontremoli. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!